Buonasera, sono Gabriella Forcucci, una docente dell'Istituto per l'Arte e il Restauro, lavoro all'interno quindi della preparazione dei ragazzi per il corso di diploma triennale e nello specifico mi occupo della materia del cosiddetto restauro estetico. In realtà è un nome che si usa sia all'interno dell'istituto che poi all'esterno nel mondo del lavoro, è un termine abbastanza improprio quindi per essere più precisi sarà bene dire che ci occupiamo di pulitura delle superfici policrome, della stuccatura e delle integrazioni cromatiche delle lacune, quindi delle perdite del colore originale e delle verniciature. Quindi ragazzi gli allievi affrontano con me ma totalmente in diretta sulle opere che sono opere che vanno da opere del 1500-1600 fino ai giorni nostri, quindi fino al contemporaneo, affrontano queste operazioni assolutamente in diretta. Cerchiamo noi docenti di instradare ovviamente, di mostrare qual è l'operazione da farsi ma cerchiamo di farla fare a loro direttamente il più possibile perché all'interno dell'istituto è proprio questo, come dire, la nostra politica fondamentale cioè quella di unire tantissima pratica alla indispensabile parte teorica.